Danilo D'Amico, coordinatore comunale a Ponza dei Fratelli d'Italia, si torna a parlare del futuro di Zannone che fa parte dell'area protetta del Parco Nazionale Circeo. Fratelli d'Italia stanno chiedendo l'UMI all'amministrazione di Franco Ferragliolo sull'Iter per indire una consultazione referentaria perché l'isola torni sotto invece la giurisdizione dell'amministrazione comunale. Una delibera di intenti approvata lo scorso anno, nella primavera del 2017, poi D'Amico non si è saputo più nulla, perché? Io posso fare una valutazione politica del perché, sicuramente all'interno dell'amministrazione ci sono delle componenti molto estremiste e ambientaliste che sicuramente non vogliono che Zannone esca dal Parco Nazionale del Circeo e quindi il motivo del silenzio da parte dell'amministrazione più volte incalzata sia da noi come Fratelli d'Italia e come punto di svolta la mia associazione che poi dalla minoranza consigliare e quindi l'ex amministrazione. Hanno sempre preso tempo dicendo aspettiamo qualche mese, aspettiamo un poco di tempo per poi concludere con il Parco degli Accordi che loro vantano come vittorie ma se poi andiamo a vedere vittorie non lo sono. Franco Ferraiolo quando fu approvata questa delibera era in consiglio ma era tra i banchi della minoranza. L'approvò la delibera, ci fu il suo stegno almeno politico, perché poi non ha dato atto a quell'atto deliberativo? Beh, Franco Ferraiolo è un politico di lunga data, una vecchia volpe, era il marzo del 2017, le elezioni erano a giugno e da persona intelligente quale sapeva che l'argomento Zannone sarebbe stato caldo in campagna elettorale. In quel momento storico non poteva non approvare in consiglio comunale una delibera del genere, un punto del genere. Poi dopo però è normale, la parola se l'è rimangiata e sono sicuro che quel punto fu approvato solo e soltanto per scopi elettorali dal sindaco Ferraiolo. La maggioranza si difende dicendo che per indire un referendum c'è bisogno di un regolamento attuativo che non è al momento previsto. Voi invece, di Fratelli d'Italia, ma la stessa minoranza consigliare, fate un ragionamento un po' diverso. Per approvare il regolamento bastano 5 minuti. Assolutamente sì, basta portare in consiglio comunale un qualsiasi regolamento e prenderlo anche ad esempio da quelli che ci sono in qualsiasi altro comune, perché, una piccola nota, non è possibile che un comune non abbia un regolamento attuativo sul discorso referendum, cosa che c'è nello statuto. Basta portare come punto all'ordine del giorno questa approvazione del regolamento in consiglio comunale, una volta approvato si può partire tranquillamente con l'iter referendario. Voi state accusando di inerzia la governance del Parco Nazionale Circeo perché i fondi che arrivano a Zannone non sono mai arrivati? Ma assolutamente no, ma questa è una storia che parte da lontano. Zannone è stato ceduto al Parco del Circeo nel 1979 e il sindaco all'epoca era Franco Ferraiolo. Ora, il canone d'affitto dell'isola fu firmato per 26 milioni di lire, 13 mila euro, soldi che già quelli arrivano a Singhiozzo quando arrivano. Oggi invece nel bilancio del parco i soldi che vengono destinati per Zannone sono non irrisori, di più, sono briciole e ovviamente noi da questo non ci lasciamo prendere in giro. Addirittura voi state sollecitando un'altra iniziativa politica da parte del Comune nei confronti all'ente parco di danno irrariale perché praticamente poi ci sono stati dei problemi anche da alcuni storici manuflatti che insistono sull'isolotto. Assolutamente, sull'isola c'è un esempio emblematico, è sicuramente quello della casa di caccia, come la chiamiamo noi, la villa del Marchese Casati che da quando non ospita più l'isola di Zannone, da quando non ospita più il guardiano perché prima c'era, l'isola è caduta completamente in rovina e non solo l'isola, flora e fauna dell'isola sono quasi annullate. ad esempio i muffloni che furono importati lì molti e molti anni fa oggi sono quasi estinti, rimangono soltanto pochissimi esemplari. Naturalmente questa vostra istanza ha anche una ragione di natura sociale, economica e compazionale. Voi dici a Panza da settembre non c'è più nulla e il ritorno di Zannone sotto la giurisdizione e la competenza del comune può servire a fare cosa? Sicuramente è uno sfogo per il turismo. Ora noi abbiamo il problema del PAI così come le hanno quasi tutte le isole, il problema è che l'abbiamo perché siamo nella Regione Lazio. Il PAI della Regione Lazio è il più restrittivo che ci sia in Italia e hanno dichiarato quando fu istituito quest'ente il 97% delle nostre coste inagibili. Ora voi capite che con un'isola che vive di turismo ad avere il 97% delle sue coste chiuse, questo è un grosso problema. E Zannone potrebbe essere un diversivo? Assolutamente sì perché Zannone non è soggetto al PAI e potrebbe essere un ottimo sfogo per il turismo in primis e soprattutto potrebbe dar lavoro a una cooperativa di giovani che purtroppo d'inverno non lavorano e quell'isola potrebbe dargli lavoro anche 6-7 mesi l'anno. Però l'Enteparco a quanto pare giustamente da par suo fa un altro ragionamento, l'isola va porretta. Eh sì, sì esatto. Il problema è che noi con quell'isola protetta non ci facciamo nulla. Cioè l'isola di Ponza allo stato attuale una Zannone ridotta così non serve a niente. Punto di svolta è un'associazione, la tua, che comunque alla luce anche di queste emergenze sociali che poc'anzi ha accennato, si sta proprio dando da fare quando si spengono i riflettori dei migli su Ponza a settembre perché poi c'è un problema sociale. Perché Danilo? Beh, soffriamo l'abbandono, un po' come tutte le isole. Bene, la mia associazione che ho creato l'anno scorso, anche se amo definirla più un movimento, si occupa proprio di questo. Un esempio, le stradine di Ponza sono molto piccole, un'ambulanza canonica, un'ambulanza standard non ci va. Ebbene, il punto di svolta l'anno scorso è riuscita a portare su Ponza un'ambulanza e questa è dei ponzesi, una piccola ambulanza che vada su queste strade. E non è della società che svolge il servizio sanitario che poi un domani, se il bando non lo dovesse più vincere alla scadenza del contratto, si porta quell'ambulanzetta via, ebbene questa è la nostra. Ma non solo. Abbiamo presentato decine di petizioni per il rifacimento di una strada per una signora disabile. Abbiamo fatto una raccolta alimentare la settimana scorsa che ha raccolto quasi 400 kg di alimenti che rimarranno per le famiglie povere ponzesi. Quindi insomma, noi siamo gli unici... Che a quanto pare ce ne sono tante. Eh, ci sono molti nuclei, diciamo che sono dati sensibili e anche complicato di vulgarli. Però posso assicurare che ce ne sono tante. E noi sul territorio siamo gli unici che stanno facendo qualcosa. Quindi Fratelli d'Italia sta facendo quello che in politica si chiama destra sociale. Assolutamente sì, mi rifaccio moltissimo a quell'idea. Soprattutto al motto di Almirante quando disse non rinnegare, non restaurare.